Siamo qua con Paolo Bernardo, uno dei soci di Samex, circuito di credito commerciale del Molise. Ci vuoi raccontare un po' come mai vi siete avvicinati a quest'idea e come sta andando, come il territorio ha la recepita? Tra tante difficoltà iniziali che noi abbiamo compensato con l'entusiasmo e col credere fermamente in quest'idea, diciamo che adesso stiamo iniziando a costruire qualcosa di tangibile e abbiamo i primi riscontri dal nostro piccolo territorio che dicevo a livello di popolazione è grande quanto un quartiere di Roma perché in Molise sono poco più di 300 mila abitanti a cui sommiamo il Sannio, Avellino e Benevento. Rispetto a questa nuova concezione di credito, di danaro, in che modo pensi che questo nuovo modo di affrontare lo sviluppo locale, l'economia locale ma anche le relazioni locali possa effettivamente modificare anche in termini di impatto sociale il tessuto produttivo? Stiamo parlando di una realtà depressa dove c'è un tasso di disoccupazione altissimo per cui io credo che si possa creare realmente un circolo virtuoso per creare posti di lavoro per aumentare il prodotto interno lordo su base regionale e interregionale e quindi con questo circolo virtuoso le ricadute sociali dal punto di vista occupazionale le vediamo, anzi abbiamo già assunto 5 persone, prevediamo di assumerne altre man mano che cresciamo come circuito. Facciamo il nostro in bocca al lupo a Samex, siamo certi che crescerà e crescerà molto in fretta e ringraziamo Paolo Bernardo. Crevi il lupo, grazie. Grazie. Grazie.